La creatività di artisti emergenti o già affermati, sfumando tra uno stile antico e moderno, sarà al centro della terza edizione di Gradara Contemporanea, rassegna d'arte che si rivolgerà a un pubblico nazionale e internazionale dal 2 di giugno al 2 di luglio. Quest'anno, visto il successo delle due precedenti edizioni, il comune di Gradara e Gradara in 9SRL, che è la partecipata unica, hanno deciso di entrare nella combinazione e creare questo mese di eventi, tutti concentrati attorno a questo contrasto tra l'antico che è rappresentato dal Borgo Storico di Gradara e il contemporaneo dell'arte e degli artisti. Siamo particolarmente contenti di avere inoltre un ulteriore dialogo che è quello tra gli artisti nazionali e internazionali che vengono esposti nelle quattro sedi espositive e invece un artista delle Marche, Luigi Toccacieli, che quindi entra in dialogo e porta anche la vocazione del nostro territorio a confronto con quella di altri grandi maestri internazionali. La rassegna è aperta tutti i giorni, nel pomeriggio, quindi i visitatori di Gradara potranno accedere gratuitamente a tutte le sedie espositive, tutti i giorni, dalle 16 alle 19.30 e dal 15 giugno abbiamo anche l'orario serale. Ci saranno alcuni appuntamenti con cadenza settimanale, che saranno conferenze, abbiamo anche un concerto che verranno resi noti a breve, quindi cerchiamo di animare in tutti i sensi il Borgo di Gradara passando attraverso i vari canali dell'arte, dell'intrattenimento, della musica e anche del dialogo tra gli operatori. Quattro sono le sedi predilette del Borgo storico di Gradara per accogliere questa edizione. Dalla Rocca De Magnale alla Casa del Gufo, da Villa Conventino al rinnovato Museo MARV. Soprattutto valorizza il nostro neonato museo civico, il MARV, il museo d'arte Rubini Vesine e lo certifica come spazio espositivo di eccellenza e quindi creando un'ulteriore attrattiva per le persone che ci vengono a visitare, quindi non soltanto il monumento alla roca che resta il punto più importante di visibilità e di attrazione culturale, ma anche il Palazzo Rubini Vesine diventerà sempre di più un attrattore culturale per Gradara.